Sì, è un tato stupo, se la ridemme o se è fatto su? Eh, ma hanno detto da spettare dopo. Sì, è un tato stupo. 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 Sì, è un tato. Sì, è un tato. Sì. Sì, è un tato. 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 Sì. Sì, è un tato. 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 Sì. Sì, è un tato. Sì. 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Buon bene 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 Buon bene